Rosanna Scarlatti Amici cari, condivido l'esperienza vissuta nella seduta del 27 aprile 2023 del Cerchio Esseno. Dopo la prima accoglienza inaspettata dall'entità Isabella è giunta la data dell'incontro. La preparazione amorevole della sala medianica e le raccomandazioni rituali ai partecipanti mi hanno messo subito a mio agio. Nell'attesa del medium siamo invitati al silenzio meditativo, poi nel buio e nel sottofondo di violino percepiamo l'arrivo del medium che entra nella tenda medianica. Udiamo la voce gioiosa di Isabella che saluta i partecipanti, segue l'invito ad avvicinarmi al medium. Mi accosto a Isabella e le porgo le mani a coppa, come lei mi dice. Nella stretta vicinanza con lo strumento sento un gorgoglio del suo stomaco e subito un rigurgito dalla sua bocca. Poi una cascata di fluido si riversa nelle mie mani, una doccia sottilissima, un profumo inebriante. Isabella carezza il mio volto completamente bagnato e mi dice «Rosanna, ci sei molto cara, questo profumo è per te beneaugurante». «Io che cosa devo dire? Invasa dal profumo mi sento fusa in quel fenomeno che per la mia mente è incredibile». Grazie, cerchio e seno.